Musica Conviventi mazzaresi arrestati per spaccio di cocaina e crack avevano adibito la propria abitazione ad un vero e proprio supermercato della droga. Attesa per oggi la sentenza per Laura Bonafede, la maestra, amante di Matteo Messina Denaro. Anche Mazzara del Vallo celebra il 10 ottobre con la giornata mondiale della salute mentale. Ieri sera Mazzara sold out per la proiezione in anteprima del film Iddu, l'ultimo padrino, intervista al protagonista Elio Germano. Il parco archeologico di Selinunte è riempito di sorrisi con il Volley S3. Ospiti d'eccezione Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio. Ben ritrovati anche oggi carissimi telespettatori a questa nuova edizione del TG8 Informazioni. Iniziamo come sempre con la nostra prima pagina dedicata alla cronaca. In particolare dei conviventi mazzaresi sono stati arrestati per spaccio di cocaina e crack. Avevano adibito la propria abitazione ad un vero e proprio supermercato della droga. Il servizio. Nel pomeriggio del 27 settembre scorso, personale del commissariato di pubblica sicurezza di Mazzara del Vallo ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare messa dal Tribunale di Marsala, ufficio del giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una coppia di cittadini mazzaresi indagata per reato continuato di cessione illecita di sostanza stupefacente di tipo pesante. L'arresto dei due spacciatori è stato il risultato di una complessa e articolata attività di polizia giudiziaria portata avanti dalla sezione investigativa del commissariato, finalizzata alla repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, iniziata nel mese di marzo di quest'anno. Dall'attento monitoraggio è stato chiaro fin da subito che la coppia di conviventi aveva adibito la propria abitazione a un vero e proprio supermercato per gli acquirenti di droga pesante del tipo cocaina e crack. I numerosi mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento effettuati di iniziativa dalla squadra investigativa, hanno appurato un continuo e incessante via vai di soggetti che a tutte le ore del giorno e della notte si recavano presso l'abitazione della coppia per acquistare dosi di sostanza stupefacente. La certosina attività di polizia giudiziaria è proseguita per circa un mese sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala e ha conseguito importanti risultati investigativi. Dieci soggetti sottoposti a controllo di polizia subito dopo essersi recati presso l'abitazione della coppia sono stati trovati in possesso di cocaina e sono state documentate più di 550 cessioni di sostanza stupefacente. Nel mese di maggio, a seguito di perquisizione delegata effettuata dalla sezione investigativa all'interno dell'abitazione, i due indagati sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack, nonché di materiale per il confezionamento delle dosi. I due conviventi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato continuato di cessione di sostanza stupefacente in concorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala che condividendo le conclusioni investigative del commissariato ha richiesto e ottenuto dal GIP la misura della custodia cautelare in carcere per entrambi. La polizia ha arrestato un palermitano di 30 anni accostato di detenzione di oltre un chilo di cocaina che trasportava sullo scooter. Gli agenti della squadra mobile in sella ad una moto nel corso di controlli al villaggio Santa Rosalia a Palermo hanno bloccato l'uomo. Nel vano sotto la sella è stata trovata una scatola di scarpe con dentro il chilo di cocaina. Addosso l'indagato aveva oltre quattro dosi di droga e anche in casa è stata trovata della cocaina. Il GIP ha poi convalidato l'arresto. Ma proseguono a Marsala i controlli straordinari ad opera dei carabinieri ancora denunce e sequestri di ciclomotori. Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio nella città di Marsala ad opera dei carabinieri della locale compagnia di Marsala dei reparti di specialità dell'arma. All'esito dell'attività che ha visto il concorso di militari del reggimento carabinieri Sicilia con posti di blocco lungo le principali arterie della città i militari hanno denunciato un 35enne di nazionalità straniera quale presunto autore di una rapina perpetrata nei pressi di un supermercato ai danni di un connazionale al quale mediante violenza ha asportato il portafoglio che a seguito di perquisizione domiciliare è stato poi rinvenuto e riconsegnato. Hanno denunciato un diciottenne per furto e ricettazione poiché trovato in possesso di due ciclomotori restituiti ai legittimi proprietari risultati proventi di furto nei giorni scorsi. Sanzionato amministrativamente quattro persone sorprese alla guida dei rispettivi veicoli prive di patente e di copertura assicurativa sottoposto a controllo gli esercizi commerciali e i circoli ricreativi di Contrada Strasatti recuperando 19 ciclomotori sprovvisti dei requisiti per la circolazione. Gli stessi sono stati affidati alla locale polizia municipale quali rifiuti speciali da avviare allo smaltimento. I poliziotti del commissariato di Termini Merese hanno arrestato un uomo di 46 anni originario di Palermo ritenuto responsabile di aver realizzato una piantagione di marijuana da destinare allo spaccio. La piantagione si trovava nel territorio del comune di Altavilla Milicia in un territorio impervio di non agevole accesso chiuso da un cancello con catena e lucchetto la cui chiave è stata trovata in possesso dell'arrestato. Le piante erano coperte da una fitta vegetazione costituita da diverse centinaia di vasi con terriccio di coltura di cui numerose con germogli già presenti assieme al materiale per creare una sorta di effetto serra outdoor e per la loro irrigazione. A qualche centinaio di metri veniva inoltre individuata una villa sita all'interno di un residence che, sottoposta perquisizione, svelava essere il luogo dove la persona arrestata custodiva il materiale occorrente alla cura delle piante di stupefacente e dalla loro essiccazione. Ma continuiamo con questa ampia pagina di cronaca odierna stalking, maltrattamenti e atti persecutori due arresti e cinque misure cautelari. Nel corrente mese di settembre i carabinieri dei comandi Compagnia di Marsala, Mazzara del Vallo e Castelvetrano hanno tratto in arresto due persone ed eseguito cinque misure cautelari emesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e atti persecutori. In particolare due persone, un 44enne e un 26enne, sono state tratte in arresto in flagranza di reato poiché sorprese nei pressi delle abitazioni delle ex conviventi in violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento cui erano sottoposti. Tre persone, un 36enne, un 26enne e un 20enne, sono state colpite dalla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in riscontro alle documentate in osservanze dei provvedimenti di divieto di avvicinamento cui erano sottoposti. Due persone, un 51enne e un 35enne, sono state colpite dalle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e contestuale di vieto di avvicinamento alla persona offesa a seguito di altrettanti episodi di maltrattamenti e atti persecutori. Continua la movida selvaggia nel centro storico di Palermo, sequestri e multe sono stati elevati per ben 60.000 euro. Movida selvaggia nel centro storico di Palermo, sequestri e multe per 60.000 euro. I carabinieri della stazione Palermo Centro con i militari del nucleo antisofisticazione e sanità del nucleo ispettorato del lavoro, dei cinofili di Palermo-Villa Grazia e degli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri della Movida Palermitana. Denunciato un 63enne palermitano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso del controllo sono stati trovati 0,75 grammi di cocaina e oltre 50 grammi di marihuana. Nel corso dell'attività sono stati effettuati diversi controlli con quasi 30 persone identificate. Quattro i locali in via Maqueda ai quali sono state contestate delle irregolarità inerenti all'assenza della prevista concessione per l'occupazione del suolo pubblico. In due locali sono stati trovati lavoratori in nero senza la formazione in materia di sicurezza alla visita medica. Sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie. Per uno dei due locali è scattata la sospensione dell'attività imprenditoriale. I carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà due persone titolari di un'attività economica già sottoposta a sequestro amministrativo e ritenute responsabili in concorso di violazione dei sigilli e cattivo stato di conservazione degli alimenti. Il locale è stato sequestrato. Nell'ambito del servizio sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per quasi 60.000 euro. E' attesa per oggi la sentenza nei confronti di Laura Bonafede la maestra amante di Matteo Messina Denaro. Il giudice per l'udienza preliminare dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di condanna da parte della direzione distrettuale antimafia di Palermo di servizio. Manca solo il verdetto che salvo rinvii dell'ultima ora dovrebbe arrivare oggi. Laura Bonafede rischia 15 anni di carcere. Il giudice per l'udienza preliminare Paolo Magro dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di condanna della direzione distrettuale antimafia di Palermo. Maestra amante e confidente di Matteo Messina Denaro. Secondo i pubblici ministeri Laura Bonafede è stata anche un'associata mafiosa. Il procuratore Maurizio De Lucia l'aggiunto Paolo Guido e i sostituti Gianluca De Leo e Piero Padova hanno ricostruito il suo ruolo. Per un periodo hanno vissuto insieme poi si sono allontanati per prudenza. Infine poco prima dell'arresto tornarono a incontrarsi davanti al banco salumi di un supermercato. Laura Bonafede è figlia del capo mafia ha deceduto Leonardo cugina del geometra Andrea Bonafede l'uomo che ha prestato l'identità al boss per curarsi del dipendente comunale e omonimo che ha provveduto a far avere al padrino le ricette mediche e di Emanuele Bonafede uno dei vivandieri del padrino arrestato insieme alla moglie Lorena Lanceri. La maestra è sposata con il mafioso Ergastolano Salvatore Gentile Ergastolano per avere commesso due efferati omicidi su ordine proprio di Messina Denaro ed è madre di Martina Gentile anche lei finita sotto inchiesta perché la rete di protezione del padrino è stata soprattutto una questione di famiglia. La relazione fra i due risalirebbe al 1996 Messina Denaro andò a trovare a casa il padre della donna per ottenere il permesso di frequentare la figlia solo a partire dal 2007 però Laura Bonafede sarebbe stata coinvolta dal boss di Castelvetrano nella gestione dei propri interessi ad un certo punto avrebbero pure convissuto insieme alla figlia Martina indagata per favoreggiamento dal 2015 la convivenza sarebbe stata interrotta ed è iniziata una fitta corrispondenza di tanto in tanto si incontravano ad esempio nel Tugurio uno dei luoghi rimasti misteriosi eravamo una famiglia scriveva il capo mafia in un pizzino diretto a blu uno dei nomi in codice usati per la maestra lei si occupava del sostentamento e della sicurezza del boss gli faceva la spesa durante la pandemia nel timore che si ammalasse e non potesse uscire di casa condivideva con lui linguaggi cifrati segretissimi pizzini affari e informazioni sulla cosca ma continuiamo la procura della repubblica di marsala chiede il rinvio a giudizio per una coppia accusata di alterazione di stato la procura della repubblica di marsala ha concluso la fase delle indagini preliminari avanzando al guppe del tribunale la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un uomo e una donna residenti a marsala per avere in concorso tra loro alterato lo stato civile di una neonata attestando falsamente all'ufficiale di stato civile che la piccola fosse nata dalla loro unione l'attività di indagine è stata compiuta dai carabinieri della stazione di marsala sotto la direzione e il coordinamento della procura della repubblica che si avvalsa dell'ausilio scientifico del consulente tecnico del pubblico ministero l'attività investigativa si è basata sull'assunzione di informazioni da persone vicine alla coppia e acquisendo la documentazione sanitaria e il materiale biologico il reato contestato è quello dell'alterazione di stato previsto e punito dall'articolo 567,2 del codice penale la richiesta di rinvio a giudizio della coppia sarà sottoposta al vaglio del giudice dell'udienza preliminare in merito al famoso caso Saguto è stato rinviato al prossimo 5 dicembre l'avvio del nuovo processo davanti la corte d'appello di Caltanissetta il servizio rinviato al 5 dicembre l'avvio del nuovo processo davanti alla corte d'appello di Caltanissetta che vede imputata all'ex presidente della sezione delle misure di prevenzione del tribunale di Palermo Silvana Saguto e altri 5 imputati era stata la corte di Cassazione a rinviare gli atti a Caltanissetta perché secondo i giudici della suprema corte alcuni reati contestati nei capi di imputazione sarebbero già prescritti e pertanto le pene vanno rideterminate il processo bis si aprirà dopo il rinvio della corte di Cassazione per rideterminare le pene nel processo sono imputati anche il marito dell'ex magistrato Lorenzo Caramma l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara ex amministratore giudiziario per i beni confiscati il professore Carmelo Provenzano il commercialista Roberto Sant'Angelo e il tenente colonnello Rosolino Nasca Silvana Saguto tuttora detenuta è stata condannata in secondo grado a 8 anni e 10 mesi era finita sotto processo per avere gestito insieme ad altri in maniera clientelare secondo le accuse della procura nissena i beni confiscati alla mafia e avere messo in piedi un vero e proprio sistema a Marsala la capitaneria scopre due lidi che hanno spostato senza autorizzazione ingenti quantità di sabbia sono stati deferiti all'autorità giudiziaria i dettagli personale dipendente dell'ufficio circondariale marittimo di Marsala ha rilevato nel corso della scorsa settimana due abusi ambientali sulla spiaggia del litorale sud i controlli della guardia costiera hanno accertato l'effettuazione da parte dei concessionari di due noti stabilimenti balneari di spostamento non autorizzato di ingenti quantità di sabbia la creazione di dune artificiali alte quasi due metri deve essere indubbiamente autorizzata a seguito di uno studio ambientale che ne accerti l'effettivo beneficio per la costa marsalese le operazioni che sono state condotte arbitrariamente hanno alterato le condizioni ambientali di una spiaggia che tutti abbiamo il dovere di tutelare cittadini e istituzioni pertanto in entrambi i casi è stata contestata la violazione dell'articolo 29,4 del testo unico ambientale ovvero l'effettuazione di operazioni in assenza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale deferendo i trasgressori alla regione Sicilia autorità competente per ogni futura determinazione è proprio quest'ultima l'unica potere a autorizzare ogni operazione che produca un significativo effetto sull'ambiente la guardia costiera di marsala manterrà alta l'attenzione su eventuali condotte poco rispettose dell'ambiente valorizzando le segnalazioni di quei cittadini che costruttivamente collaborano con le istituzioni a tutela del patrimonio ambientale marsalese sono state elevate come ultima notizia di cronaca odierna da parte della Capitaneria di Porto 1500 multe in Sicilia occidentale durante l'estate ascoltiamo oltre 24.000 controlli a tutela dell'ambiente nel settore del di Porto nautico e in materia di traffico marittimo per la vigilanza sul demanio e negli stabilimenti balneari oltre 1500 multe elevate per violazioni al codice della navigazione e all'ordinanza balneare e 54 provvedimenti penali avviati sono i dati dell'operazione mare e laghi sicuri della Capitaneria di Porto della Sicilia occidentale nel corso della stagione sono state soccorse 48 unità da di Porto e 2 da pesca per avaria al motore per avverse condizioni meteo perché si sono incagliate o per avaria al timone per incendio e per collisione sono state soccorse 152 persone tra cui di Portisti bagnanti subacquei surfisti due acquascuteristi canoisti e pescatori all'operazione hanno preso parte complessivamente 46 unità navali e 38 pattuglie terrestri per un totale di 472 donne e uomini i controlli sia a terra che a mare sono stati integrati con verifiche in materia di inquinamento e abusivismi demaniali compreso il controllo dei varchi pubblici di accesso alle spiagge a tutela delle aree marine protette di Capogallo Isola delle Femmine Ustica Isole Egadi e Isole Pelage è stata attuata un'intensa attività di monitoraggio e controllo al fine di scongiurare danni all'ambiente e alle specie marine protette Cambiamo argomento a Mazzara del Vallo il 10 ottobre il primo evento sulla celebrazione della giornata mondiale della salute mentale in piazza della Repubblica dalle ore 9.30 alle ore 19 attività informativa e celebrativa da parte del Dipartimento Salute dell'Asp di Trapani insieme al Centro Salute Mentale di Mazzara del Vallo i dettagli Il 10 ottobre si celebra la giornata mondiale della salute mentale anche la città di Mazzara del Vallo sarà protagonista di questa giornata grazie all'iniziativa del Dipartimento Salute Mentale dell'Asp di Trapani e del Centro Salute Mentale di Mazzara del Vallo con il patrocinio del Comune Giovedì 10 ottobre dalle 9.30 alle 19 l'unità mobile dell'Asp di Trapani e un gazebo saranno presenti in piazza della Repubblica per un'attività informativa preventiva sulla salute mentale e sui servizi offerti alla cittadinanza del Centro Salute di Mazzara del Vallo e dal Dipartimento Salute Mentale dell'Asp di Trapani Gli operatori del CSM di Mazzara saranno a disposizione della cittadinanza per tutta la giornata per rispondere a quesiti e dubbi sul tema della salute mentale e sarà distribuito materiale informativo sul disagio psichico sulle strategie di cura modalità di accesso e orari di apertura del Centro di Salute Mentale di Mazzara del Vallo Nell'occasione saranno presenti anche gli operatori delle comunità alloggio per disabili psichici Mazzara del Vallo ha una storia di espressione del disagio mentale attraverso la pittura e le arti creative come testimoniato dal compianto e amato pittore mazzarese Salvino Catania a riprova dell'importanza della creatività e dell'arte anche come strumento di espressione di disagio e di cura saranno esposti pitture e manufatti di pazienti sarà realizzata una estemporanea di pittura in cui verranno coinvolti i cittadini e ci sarà inoltre spazio nel corso della giornata per momenti musicali di festa e distribuzione di doni il dottore Gaetano Vivona direttore del dipartimento di salute mentale dell'ASP di Trapani il dottore Luciano Asaro direttore del modulo Mazzara Marsala la dottoressa Tiziana Nicolazzo responsabile del centro salute mentale di Mazzara del Vallo e tutti gli operatori del CSM sottolineano i due importanti temi e slogan della giornata mondiale della salute mentale la salute mentale è un diritto universale cercare supporto per la propria salute mentale non è un segno di debolezza ma un atto di coraggio e cura di sé l'appuntamento è quindi per giovedì 10 ottobre dalle 9.30 alle 19 in piazza della Repubblica Mazzara del Vallo in occasione della giornata mondiale della salute mentale l'amministrazione comunale giovedì 10 ottobre illuminerà per tutta la serata e la nottata il palazzo Cavalieri di Malta con il colore verde colore simbolo della salute mentale Assisi celebra San Francesco patrono d'Italia la città Umbra è stata raggiunta da almeno 5.000 fedeli giunti da ogni parte dell'isola molti arrivano dalla Sicilia la regione che ha donato l'olio per mantenere viva la fiammella della lampada votiva ad Assisi ci sono anche il presidente della regione siciliana Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ad accoglierli la presidente della regione Umbria Donatella Tesei il custode del sacro convento fra Marco Moroni e la sindaca di Assisi Stefania Proietti alle celebrazioni anche il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Guido Castelli il sindaco di Palermo ha consegnato anche la stato di Santa Rosalia alla collega di Assisi Stefania Proietti e a proposito di cultura e spettacolo è andato di scena ieri Idru il film sulla latitanza di Matteo Messina Denaro basato sullo scambio di Pizzini con l'allora ex sindaco di Castelvetrano Baccarino l'anteprima è stata realizzata a Mazzara del Ballo ieri sera alle ore 21 e 30 al Cinema Grillo con un sold out registrato già da diversi giorni fa presenti nelle due sale più di 500 persone e in sala prima del film hanno dialogato con il pubblico i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza e gli attori Elio Germano e il mazzarese Alessandro Burzotta l'intervista all'attore Elio Germano Sì dunque è un film che parte dal ritrovamento di queste Pizzini di questo carteggio tra appunto Matteo Messina Denaro e l'ex sindaco di Castelvetrano e questo è il fatto reale che ha acceso anche la fantasia degli autori perché erano insomma delle cose scritte in maniera molto particolare bizzarra anche insomma tragicomica perché se non fosse altro noi sappiamo che cosa comportavano quelle cose però la modalità in cui sono state scritte erano molto curiose ecco dalla lettura penso siano state anche pubblicate in un libro quindi da quella cosa concreta si è aperta poi la fantasia degli autori e si sono sviluppati dei personaggi che hanno una funzionalità all'interno della storia quindi non è ovviamente un film di inchiesta giornalistica da cui uno si aspetta chissà quale verità è come dire l'utilizzo di alcuni simboli che raccontano tanto del nostro paese quindi non solo della Sicilia tra l'altro è un film con tanti accenti diversi con tante parti d'Italia insieme un film molto corale che racconta tanti personaggi racconta le forze dell'ordine racconta i servizi raccontano le persone normali quindi tutto quello che ruota attorno sono tutti personaggi che scelgono per le proprie convenienze personali ecco in questo ci raccontano molto anche come popolo che non riusciamo ancora a trovare una strada di collettività che ci farebbe sicuramente vivere tutti meglio tutti i personaggi di questo film pensano ai loro affari privati personali quindi a secondo della loro sfera di influenza e di potere poi gli altri li subiscono ma sono tutti personaggi che pensano a loro stessi nella peggiore delle caratteristiche di noi italiani si terrà domani sabato 5 ottobre alle ore 17 nell'aula san carlo del seminario vescovile di mazzare in piazza della repubblica l'assemblea dei catechisti di tutta la diocesi don marco renda introdurrà ai primi due capitoli del vangelo di luca successivamente alle ore 18 e 30 il vescovo monsignor giordanella presiderà la celebrazione eucaristica in cattedrale per il mandato ai catechisti e chiudiamo invece con lo sport la tappa di selinunte del circuito 2024 del volley s3 ha coniugato sport promozione e cultura l'evento organizzato nel parco archeologico più grande d'europa ha coinvolto 2500 ragazzi ed è stato un grande successo il grande abbraccio degli studenti e dei giovani pallavolisti siciliani è stato molto forte sui campi allestiti all'ombra del sito archeologico di selinunte in passato era una delle città più potenti della magna grecia e oggi un sito archeologico capace di richiamare ogni anno oltre 350.000 visitatori ascoltiamo le interviste è andata benissimo l'essere di sudore e l'essere di sole ha dato la possibilità di avere una spiritualità incredibile perché qui i bimbi si sono divertiti a fare il gioco della schiacciata di interagire a soprattutto conoscere quello che è la mia veste è una veste molto strana di animatore che anima attraverso il sorriso la voglia di poter schiacciare hanno schiacciato tutti tutti i bimbi nessuno escluso anche dei bimbi con disabilità dei caratteriali dei bimbi anche con la sindrome di down abbiamo trovato anche la possibilità di far giocare bimbi con un grado d'autismo in grado di poter dare a loro la possibilità di aspettare i loro tempi rispettare la voglia di giocare divertirsi una cosa meravigliosa perché noi giriamo nelle piazze di tutta Italia nel mio palmarè palmarè so 550 mila bambini con i quali gioco ma una location così è veramente meravigliosa come abbiamo detto un templio dello sport a un templio della storia la storia l'abbiamo fatta qui oggi perché nei bambini non hanno avuto storie stanno tornati a casa con il sorriso sulle labbra è una vittoria meravigliosa quando veniamo al sud raccogliamo sempre tantissimo calore quindi non poteva sicuramente mancare in questa zona anzi devo dire che è stato molto più abbondante e il parco la sua realtà la storia ci ha dato spazio per poter dar libero sfogo a tutti quindi dei confini ampi che ci hanno permesso di creare intanto due campi e quindi raddoppiare le opportunità di divertimento e dare modo ai duemila ragazzi che sono passati oggi di poter avere il giusto momento per ogni piccola cosa che abbiano fatto quindi dalla palla a volo all'intrattenimento all'inclusione fondamentalmente per creare un percorso di divertimento e quindi di benessere sono contento per due motivi prima perché abbiamo portato una giornata di grande sport all'aria aperta qui al parco di Serenunte e perché i ragazzi in fondo oltre a vivere una giornata di sport stanno vivendo anche una giornata d'arte perché abbiamo fatto veramente realizzato il connubio fra lo sport e la cultura perché quello che vediamo qua dentro è che la nostra cultura la cultura millenaria di Serenunte che è arrivata a noi e noi abbiamo il dovere di custodirla e soprattutto di farla rivivere quindi grazie ancora una volta alla federazione per aver organizzato questa giornata e per aver dato la possibilità a tutti questi ragazzi di viverla questa giornata era questa la nostra ultima notizia odierna vi diamo appuntamento come sempre alla prossima edizione del TG8 informazioni e a voi un buon fine settimana del TG8